gentili telespettatori buona giornata in questi giorni si è visto un nuovo fenomeno gli elettori del movimento 5 stelle che passano al pd o perbacco o perbacco come è possibile il punto è questo gli elettori del movimento 5 stelle sono elettori che qualche anno fa erano del pd scontenti erano elettori diciamo del pd però quelli di sinistra populista che scontenti che il pd non facesse più manifestazioni comizi eccetera eccetera si erano spostati nel nuovo partito il movimento 5 stelle lo diceva anche zingaretti quando era segretario del pd diceva questi qui sono pdini che se ne sono andati scontenti bisogna farli tornare spiegandogli che cos'è la politica ecco insomma con un po di presunzione li facciamo tornare indietro spiegandogli che cos'è la politica oggi dopo anni cominciano a tornare indietro perché il punto è questo dopo l'elezione di ellis line a segretario del pd portando un'idea tipo centro sociale la bandiera della pace i cortei antifascisti e i diritti lo ius soli il ddl zan pace ecco tutto diciamo quel modus operanti quel modo di pensare un po da centro sociale da sinistra a sinistra ecco quindi non da centro sinistra ma da sinistra a sinistra spostando il partito verso quell'area estrema della sinistra perché una parte dei grillini cominciano a tornare indietro perché ovviamente vedono nella schline quello che prima loro non non avevano più visto e si erano spostati nel movimento 5 stelle quindi la schline come porta il pd a livello populista di sinistra e i grillini sono interessati a ritornare da dove erano partiti adesso nel pd realmente c'è di nuovo c'è di nuovo una sorta di idea da centro sociale torniamo indietro naturalmente la parte del pd invece quella più quella meno populista quella più acculturata si è già spostata è già andata via dal pd e si è posizionata nel partito di calenda e renzi quindi diciamo che la parte più filosofica filosofeggiante quella più studiata del pd si è già spostata al centro mentre il pd di oggi più del centro sociale si sta spostando a sinistra portandosi via i voti dei 5 stelle perché alla fine il movimento 5 stelle gli togliete il reddito di cittadinanza il carisma che piace tanto ai grillini di di conte non rimane niente tolto realmente il reddito il famoso reddito come viene chiamato dagli amici il reddito non rimane niente e così gli elettori 5 stelle cominciano a rientrare alla base alla base che è sempre stata il partito democratico anche qui oggi nel movimento 5 stelle che era al 35 per cento se ne sono già andati via tutti quelli che erano di destra sono ritornati nei rispettivi partiti oggi nei 5 stelle è rimasto solo quell'elettorato populista di sinistra che vede nella schline quello che mancava nel nel pd secondo 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 loro la sondaggista ghisleri dice ma insomma anche se vince avesse vinto bonaccini sarebbe successo la stessa cosa perché c'è aria nuova se avesse vinto bonaccini probabilmente sarebbero tornati nel pd molti da calenda e italia viva rivedendo tornare una gestione del partito più intelligente diversa dal da centro sociale per te perché bonaccini doveva portare anche lui un nuovo pd non verso sinistra ma verso un modo di vedere la politica diverso basta dire che sono nostalgici basta dire che sono cattivi basta non avere temi bisogna avere soluzioni da proporre da contrastare a quelle del centro destra quindi delle soluzioni non dire cattivi ma portare delle idee riempire la scatola vuota del pd quindi anche se avesse vinto bonaccini sarebbero arrivati dei voti nuovi nel pd ma da altre parti non dai 5 stelle ma da calenda dal centro e dobbiamo dire c'è anche la novità che la schline la prima segretaria donna del partito democratico ma nel pd hanno voluto imitare il centrodestra e c'è come loro hanno la donna premier e noi manco il segretario ecco diciamo che la schline ha vinto anche grazie alla vittoria precedente di giorgia meloni questo è diciamo che in politica non c'è mai una sola spiegazione ai fatti di solito è un mix di diverse cose che fanno sì che un evento si materializzi e vedremo adesso che cosa succederà nelle prossime settimane se si consolideranno questi voti nuovi nel partito democratico se aumenterà questo vaso comunicante tra il movimento 5 stelle e il pd perché sono vasi comunicanti se gli elettori vanno nel pd 5 stelle scendono se le 5 stelle crescono diminuiscono nel pd un po come nel nel centrodestra se aumentano quelli di fratelli d'italia diminuiscono quelli della lega e di forza italia se aumentano quelli della lega diminuiscono quelli di fratelli d'italia sono dei vasi comunicanti se sale da una parte scende dall'altra io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete dove trovate video di politica di notizia di fai da te e poi c'è anche la pagina di facebook dove trovate condivisi questi video dopo qualche ora così se vi sono interessati li potete condividere con chi volete grazie a tutti e arrivederci a presto